Se quel giorno non ci fossimo sfiorati nell'anima, oggi il mio tempo vivrebbe un battito orfano, privo di risonanze. Mi stai ascoltando? Ci sei? Ehi! Oh, sveglia! Che ti hai preso? Scusami. Quel caffè ha intenzione di berlo? Non voglio invecchiare qua. Non mi va. Potevi pensarci prima, vorrà dire che lo bevo io, però lo paghi tu. Pago anche il tuo, se vuoi. Sto scherzando, questa volta offro io. Cameriere? Prego, signori. Il conto, per favore. Arriva subito. Senti, si può sapere cos'hai? È un brutto periodo. Certo, ma siamo usciti per fare due chiacchiere. Potresti almeno provare a stare qua con me? È tutto il giorno che non ci sei. Ci sto provando. Potevo benissimo rimanere a casa. Ti guardo, se fai così, tanto valeva. Senti. Tutti abbiamo i nostri problemi. Reagisci? Ma ti sei offeso? Io dovrei essermi offeso, visto che mi fai perdere tempo. Vedi di riprenderti. Vedi di riprenderti. Grazie a tutti. 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 Dove? Non lo so, ma devo andare. Neanch'io so dove sono diretto. Possiamo andare insieme? Grazie a tutti. Pensi che tutto questo sia reale? Sono già stata qui per un breve momento. Pensavo fosse un sogno. Magari lo è ancora? Può darsi. Forse dovremmo fermarci. Non possiamo. grazie a tutti 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 grazie a tutti